Calcio d'inizio da Villacco per la partita dell'Udinese, un amichevole con la selezione mista, primavera, prima squadra che va ad affrontare Loman, la nazionale dell'Oman. Mentre qui prova la girata, Loman trova però il muro della difesa gialla. Si prova ancora con il servizio sul secondo palo, il colpo di testa che finisce facile tra le braccia di Bizarri. Temkamis ancora in verticale per la girata e Bizarri la tiene lì. Aspetta il movimento di Temkamis, buono il numero, poi il cross sul secondo palo, colpo di testa e Bizarri deve rifugiarsi in calcio d'angolo. Altro cambio di gioco interessante a cercare Ingelsson, la posizione è regolare, vediamo adesso se Ingelsson riesce a tenerla viva. Evandro, cross teso, Baic non ci arriva, c'è Alimalle sul secondo palo all'interno dell'area di rigore, il mancino è la rete di Alimalle che corona finora una prestazione ottima con un gol molto bello. La sponda aerea interessante per Evandro, se la può portare sul suo mancino, Evandro crossa, Baic la mette giù con il petto, Ingelsson la regala a Ibrahim. Antonin Barak, buona la pirouetta, poi con il mancino va a cercare Ingelsson la posizione regolare, lo stop così così, Ingelsson se la ritrova lì e poi prova addirittura a segnare quasi dalla linea di fondo. Ha chiuso il primo tempo con il risultato di 1-0 in favore dell'Udinese. Seguiamo però la manovra dell'Oman con il piazzato e la palla rimpallata da Vedova, poi la sfera scagliata altissima dal numero 9, Salah Said. Giuret, lancio lungo, attenzione alla palla per Mouchin Saleh che cestina incredibilmente il gol dell'1-1. Ancora triangolo tra i due, buona per Jamel, la palla che rimane lì su Leiman, Bizarri lo inchioda quando sembrava tutto fatto per il pareggio dell'Oman. Sale Fili Piac, grandi falcate, Fili Piac, zona tiro, puntata, respinge con i guantoni il portiere Rihad. Lascia scorrere il pallone su Leiman. Il cross profondo sul secondo palo dove Bizarri deve superarsi ancora una volta su Jamel Salem. Questa è una parata assolutamente non di ordinaria amministrazione. La palla arcuata, Boknevic, incredibile il salvataggio sulla linea di Mohamed Salah. Adesso la palla apparecchiata per la fucilata dalla distanza di Giuret. E' proprio al novantesimo, vicinissimo al gol del pareggio Loman. Verticale a cercare su Leiman, lato corto dell'area di rigore. Cross, la correzione per poco. Non finisce in rete da parte di Mohamed Salah. E' arrivato con leggero ritardo. Mohamed Salah e finisce qui la partita.